Il progetto si chiama Dare credito all'inclusione sociale, è iniziato da un anno, quindi si tracciano il primo bilancio in sostegno alle famiglie che hanno fatto richiesta di un sostegno. Sì, questo è partito dalla regione toscana e noi facciamo partenariato di questo, la Caritas insieme ad altri, io credo che questo sia un modo nuovo, bello, di solidarietà, di sostegno a tante famiglie. Quello che colpisce, poi sentirete i dati, è il fatto che quasi il 70% sono tutti italiani residenti nel nostro territorio. La maggior parte chiede aiuto per quanto riguarda le esigenze legate ad un'abitazione, un tetto sopra la testa? Insomma, anche sostegno per certe necessità urgenti che capitano, non hanno la possibilità immediata di poter usufruire di danaro per queste soluzioni. Dicevamo, il 70% italiani, la maggior parte delle richieste per l'abitazione, ma anche per esempio per l'istruzione dei figli o altri bisogni. Sì, si può dire che il prestito ha avuto questa grande, si può dire, occasione di poter sostenere le famiglie in cui bisogni anche più contingenti, più temporanei, più di immediato anche necessità, che in qualche modo le famiglie vivono, anche per ripianare in qualche modo vecchi finanziamenti in corso, oppure mutui, far respirare le famiglie su una serie di bisogni e di necessità, anche le più immediate, anche più temporanee, anche degli imprevisti. Si può dire che Caritas di Ocesana è capofila in due zone sociosanitarie della nostra provincia, la zona retina e quella del Casentino, insieme ad una rete di associazioni di volontariato, dalle Misericordie all'Anteas, all'Ampas, alle realtà delle Caritas, alcuni Caritas parrocchiali, che hanno evidenziato questa grande anche rete, collaborazione, nello scambio di informazioni e soprattutto nella valutazione delle pratiche. Molto importante è stata questa attenzione, questa attenta lettura anche alle condizioni, agli accessi, ai requisiti che le persone possono avere. Quindi è stato un bel modo di condividere anche con queste associazioni lo scambio, anche arrivare poi a delle soluzioni concrete. Ecco, infatti deve essere presentata una documentazione che poi viene valutata, addirittura con le prime restituzioni dei prestiti, le prime rate, si sono riusciti anche a superare quello che era il finanziamento iniziale. È stato un bel risultato perché stiamo in qualche modo utilizzando già il restituito, cioè in qualche modo l'abbiamo rimesso in circolo e questo è molto bello perché dà modo anche in attesa del nuovo rifinanziamento da parte della Regione Toscana per l'anno 2015 a rifare di nuovo degli interventi. Ecco, e quindi le persone che beneficiano, hanno beneficiato il prestito, si sono in qualche modo resi responsabili insieme ai tutor dei vari centri di ascolto che hanno presentato le pratiche nell'anche responsabilità, è anche un percorso educativo che in qualche modo mette la famiglia e la persona beneficiaria nelle condizioni di poter utilizzare al meglio e anche per quello che ha chiesto, il motivo per il quale ha chiesto il prestito stesso. Quindi appunto ha un importante ruolo anche sociale di mantenere la persona attiva perché comunque ha l'impegno di restituire quanto gli viene dato, non è un dare fino a se stesso. Come diceva Alessandro, anche educativo perché non è che si riceve e subi, ricevi, usi e al tempo stesso ti impegni anche nella restituzione e questo è bello perché aiuta anche altri con quella restituzione, non è che dopo questi ritorni vengono reinvestiti in altri interventi.